bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi un altro piccolo tips per le sfide della settimana numero 5 capitolo 2 di fortnite una sfida ci chiede di saltare in un anello di fuoco a borgo bislacco quindi ragazzi davvero molto molto semplice recuperare questo obiettivo prendersi i nostri 25.000 punti esperienza la strada che state vedendo in questo momento è la migliore che potete fare in modo da completarla super fast siamo nella strada che collega sabbie sudate a borgo bislacco recuperate il veicolo che a volte si può trovare qui o comunque ne prendete uno vicino a sabbie se non volete proprio entrare a borgo bislacco e una volta che seguite la strada quando vedete le prime case di borgo voi vi spostate tutto a destra nella casetta appunto sulla destra molto facile perché subito davanti a voi come potete vedere si intravede la rampa dove lì c'è il cerchio di fuoco quindi con una bella accelerazione lo saltate e completate la sfida insomma io vi ringrazio per avere guardato anche questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao 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 Grazie a tutti.